A San Ferdinando di Puglia i carabinieri hanno rintrecciato e tratto in arresto il 55enne Miguel Di Paola, nato a Caracas in Venezuela. L'uomo, nell'occasione trovato in evidente stato di ubriachezza, da tempo era solito aggredire verbalmente e fisicamente l'anziana madre, causandole varie lesioni e tenendola in penose condizioni di vita. L'arrestato è stato associato alla casa circondariale di Foggia. I carabinieri di Cerignola hanno tratto in arresto per truffa il 25enne Paolo Mirabile, nato a Noto, in provincia di Siracusa. Il giovane alla guida di una Volkswagen Golf ha simulato un incidente stradale prima con un furgone Citroën Berlingo, poi con una Ford Fiesta, accusando i conduttori di aver danneggiato uno specchietto retrovisore della propria autovettura. Quindi, minacciando di rivolgersi a vigili urbani e di denunciare il sinistro all'assicurazione, si è fatto consegnare la somma di 30 euro a risarcimento per il finto danno. Dopo la segnalazione da parte delle vittime della truffa, è stato rintrecciato e bloccato dai carabinieri, che nell'auto hanno trovato ancora i soldi estorti e dai due automobilisti. Sono in corso ulteriori indagini per accertare eventuali altre truffe eseguite con la stessa tecnica.